Nel risico delle telecomunicazioni si aggiunge un nuovo capitolo all'invasione dell'Europa da parte dell'America centrale. America Mobile, già proprietaria del 30% del gruppo olandese KPN, ha lanciato un'offerta di pubblico acquisto da 7,2 miliardi di euro per rilevare il resto delle quote azionarie. Obiettivo del proprietario Carlos Slim, l'uomo più ricco del mondo secondo la classifica stilata da Forbes, è quello di mettere i bastoni tra le ruote alla concorrente telefonica. I madrilegni avevano da poco lanciato a loro volta un'offerta per E+, la controllata tedesca di KPN, ma il nuovo proprietario potrebbe avere da ridire bloccando l'operazione o chiedendo una cifra maggiore.